Anna Maria Zanetti, Rose alla deriva La mia vita, come queste due rose sballottate dall'onda, resta sulla riva, incapace di intraprendere quel percorso marino dei grandi naviganti al quale era vocata. Eppure nacqui vicino alla casa di Colombo ed era forse il mio destino andar per mare e scoprire nuove rotte. Ma anche presso la casa di Paganini, il violinista del diavolo, che col suo cannone cercava l'impossibile da suggere fin dall'intima essenza della corda. E tra queste due forze opposte ed inconciliabili ho sostato, aspettando come queste due rose, che la risacca respinge monotona verso la riva, macerando i petali vellutati ieri con la sua acqua salmastra. Intanto impassibile, l'onda continua in sua moto, falsamente spumecciante, filtrata dal nitore della sabbia, anche esso ormai perduto. Ma tant'è. E' tardi. E' tardi. E' tardi. E' tardi. E' tardi. E' tardi.